Presentazione dei bandi PSR, cosa è stato spiegato stasera? È stato spiegato come aiutarci a sviluppare più le aziende, recensione di lupo, varie cose. Per lei che cosa potrebbe essere utile? Anche lo sviluppo delle aziende è importante perché in confronto ad altri territori magari il nostro è leggermente un po' meno tecnologico, magari servirebbero delle innovazioni per facilità al lavoro, che magari tante aziende ancora non hanno. Lei è venuta quindi qualche idea? Per esempio adesso stanno ancora aziende con drattori vecchi, si potrebbero cambiare, modernizzare, fare attrezzature diverse, che porterebbero altri tipi di lavoro.